Gennaio sarà un mese in cui i bianconeri hanno iniziato i loro primi movimenti sul mercato dei trasferimenti. Ma il club sta anche pensando a luglio e a giugno un nuovo nome sulla lista di giuntoli, un giovane con molto potenziale per diventare una grande stella. Prima di procedere con il video, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche, non ti costerà nulla, ma ci aiuterà molto. Un giovane attualmente in Championship ha suscitato l'interesse del direttore sportivo della Juventus Charlie Patino, di 20 anni, è di proprietà dell'Arsenal, ma attualmente è in prestito allo Swansea City e tornerà all'Arsenal a giugno, proprio quando giuntoli intende avvicinarsi al giovane inglese. Nonostante sia molto talentuoso, Patino non troverà molto spazio per giocare nell'Arsenal, poiché ci sono già molti centrocampisti nella squadra. Quindi lasciare l'Arsenal è un'opzione favorevole per la sua carriera e alla Juventus avrebbe più opportunità di giocare. Penso che Charlie Patino sia una buona opzione per la Juve in termini di giovinezza e prezzo anche, ma ci sarà sicuramente una lotta per lui, il che potrebbe rendere le cose più difficili.